benvenuti presso ferrari ski service oggi vi mostrerò come indossare correttamente uno scarpone da sci alpino e trovare la misura giusta adatta al vostro piede presso ferrari ski service abbiamo un accessorio per misurare il vostro piede sia di pianta che di lunghezza in questo caso abbiamo una misura 28 e pianta come vedete qua basta trascinare e ho intorno al 99 di mm di pianta quindi mi servirà un 100 di pianta sul mercato ci sono vari tipi di scarponi vari tipi di flex e anche di piante quindi uno scarpone da gara è una misura differente di pianta rispetto allo scarpone da free ride per dire in questo caso vediamo in questo modo non dovete usare la linguetta così dovete aprire lateralmente le plastiche dello scarpone in questo modo in modo che il piede entra più facilmente all'interno dello scafo allacciate due ganci centrali prima di tutto successivamente gli altri e infine importante allacciare anche il laccio sul polpaccio perché ve lo stringe bene se vi è piaciuto questo tutorial iscrivetevi al canale cliccate un bel like noi siamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento buona sciata da ferrari schisse